Il 2021 si è aperto con temperature molto rigide come preventivabile ed auspicabile per il periodo. In Irpina da giorni gli altopiani sono completamente imbiancati dalla neve che sia a Montevergine che a Laceno restituisce immagini suggestive. Questa è la nevicata che ha imperversato a Montevergine questa mattina, neve fresca con l'osservatorio che prevede più di 10 cm. Sull'altopiano dell'Aceno situazione simile che fa crescere ulteriormente il rammarico per la seggiovia che in base alle regole vigenti sarebbe comunque dovuta rimanere chiusa, ma che probabilmente con lo sblocco che ci potrebbe essere tra qualche giorno avrebbe potuto offrire diverse opportunità per svago e turismo, ma questo è un altro discorso. Intanto però la neve cade e seppur nelle zone alte riesce a trasmettere quella sensazione di serenità utile in questo inizio d'anno. Per il resto molto freddo in Irpina con il perdurare e l'allerta gialla fino a domani mattina. Sull'intera regione piogge molto forti anche di carattere temporalesco con raffiche di vento che potrebbero portare anche a possibili mareggiate lungo le coste. L'allerta meteo diramata alla proiezione civile regionale mette in guardia contro i possibili rischi dovuti al nuovo peggioramento del clima. Insomma sarà un'epifania di freddo, pioggia e neve.